Guardando questo camion noterete subito che è privo di specchi tradizionali. Infatti è dotato di mirror cam, che migliora il consumo di carburante, la visibilità e soprattutto aumenta la sicurezza. Ok, esattamente come procediamo per un camion tradizionale, prima di partire dobbiamo impostare gli specchi. Nel caso delle mirror cam dobbiamo visualizzare dove si trova la parte posteriore del camion. Ovviamente se abbiamo un semirimorchio dobbiamo visualizzare la fine del rimorchio. Se abbiamo un rimorchio faremo riferimento alla fine del telaio. Per i nostri scopi ci serviremo di un cono stradale. Ok, ho posizionato il cono nella zona più arretrata del rimorchio. Ora dobbiamo allineare questa riga con il cono. A tale scopo dobbiamo attivare il pulsante di destra che controlla lo specchio a destra. Quindi dobbiamo usare il dispositivo di regolazione per allinearlo in modo che si trovi nel centro del cono qui. Quando siamo soddisfatti del risultato usiamo il pulsante di sinistra. Ora la cosa più importante è che il veicolo e le mirror cam sanno dove si trova la parte posteriore del rimorchio e possono controllarla mentre eseguiamo la svolta. Avrete sicuramente notato che lo schermo è suddiviso. L'area superiore offre una visuale ravvicinata, invece l'area inferiore una panoramica ampia, fornendo la migliore visibilità possibile da vicino e da lontano. Possono verificarsi situazioni in cui volete comunque effettuare regolazioni degli specchi. Potete regolare le mirror cam esattamente come effettuate le regolazioni in un camion tradizionale. Dovete solo attivare lo specchio e spostarlo nella direzione desiderata. Visualizzerete un segnale rosso che vi comunica che siete fuori dal campo visivo previsto dalla legge. Spostatelo nuovamente nella direzione opposta fino a visualizzare un segnale verde. Eccolo. Questo segnale vi informa che avete ripristinato un campo visivo sicuro e legale, che è ciò che conta. Quindi siete pronti a partire. Come accade per i normali specchi, scoprirete che anche questi devono essere sempre tenuti puliti. Sono posizionati in modo da essere facilmente raggiungibili. Puliteli con un panno morbido. Infine, è opportuno ricordare che si tratta di specchi riscaldati. La nostra presentazione sulle mirror cam è terminata. Mercedes-Benz. Trax, you can trust.